Città Sant'Angelo rischia di perdere la RSA e voi al Consiglio regionale portate proprio questo, all'attenzione chiedete alla Verri e l'UMI sulla situazione reale. Abbiamo presentato un'interpellanza su richiesta del gruppo comunale di Città Sant'Angelo, del Partito Democratico e del circolo del Partito Democratico per chiedere una parola chiara sulle tante voci che si rincorrono ormai da due anni, circa un trasferimento, un azzeramento dei posti letto della struttura RSA di via Baiocchi a Città Sant'Angelo e di un ipotetico trasferimento che pure si è ventilato a tocco da Casauria. Lo chiediamo e lo chiediamo soprattutto alla luce delle tante promesse che sono state fatte su questa RSA. Il 13 febbraio del 2020 l'assessore Verri andava a visitare questa struttura e prometteva un rafforzamento. Da allora assolutamente nulla, anzi questo è il terzo piano qui diciamo tra pavimenti avallati, mura scrostrate, sporche e dove vivono i pazienti e dove sono costretti ad andare anche i familiari. Mentre nel secondo piano, quello che è stato dato appunto alla medicina Angulum, un gruppo di medici di medicina generale, sono stati fatti 92.000 euro di investimenti che noi abbiamo anche apprezzato perché è giusto che questa struttura medica torni nel centro storico di Città Sant'Angelo. Ma rispetto ad agosto del 2020, quando è stata sottoscritta questa convenzione, è trascorso un anno e questi medici non sono ancora andati. I medici non sono ancora andati ma la struttura è stata messa a norma, mentre laddove funziona la struttura non è assolutamente a norma. Queste e le scelte politiche appunto che dicevamo prima sono state l'oggetto di questa interpellanza che i consiglieri di Città Sant'Angelo mi hanno chiesto di presentare in consiglio regionale. Che risposta vi attendete? Intanto parole chiare e soprattutto una presa di posizione rispetto a quelle promesse del 13 febbraio 2020. Vogliamo veramente un rafforzamento di questa struttura che è sempre stata il fiore all'occhiello della medicina angolana ma di tutta quell'area.